Mico, Centro Congressi di Milano per il World Business Forum, siamo con Todd Davies, Chief People Officer di Franklin Covey, thank you to be with us. Thank you for having me. Parliamo prima di tutto, chiediamo di cosa si occupa la sua società che ha al centro il comportamento umano, curioso, chiediamoli di che cosa si tratta. So, Todd, what is the main business of your company? Franklin Covey è un'azienda globale specializzata che aiuta le organizzazioni e i loro team a ottenere risultati che richiedono un cambiamento radicale nel comportamento umano. Quindi, quando è necessario fare le cose in modo diverso per raggiungere dei risultati, entriamo in gioco noi. L'essere umano al centro, oggi così come domani? Penso che alcune organizzazioni stiano commettendo l'errore di pensare che la tecnologia stia avanzando troppo velocemente. Certamente sta sostituendo certi valori, ma è sempre necessario il giudizio delle decisioni che hanno solo gli esseri umani. Penso che la cosa di cui dobbiamo essere consapevoli è che al lavoro dobbiamo pensare che abbiamo a che fare con una persona, che non è semplicemente quella che deve concludere un compito, ma anche una madre o padre, figlia o figlio che ha sogni e speranze, cose belle e brutte e brutte è un proprio modo di essere. Questo deve modellare il modo in cui interagiamo con le persone e questo deve essere il primo pensiero. Ma anche se può essere molto soltanto e credo che i umani hanno bisogno di sentire engagati e collaborativi con l'unico.